Bentornati su MyFootballGersie. Oggi finalmente una maglia che in tanti aspettavate. Questa è la seconda maglia dell'Al Nassar, la squadra ovviamente di Cristiano Ronaldo, per la stagione in corso, in edizione Player. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Non si trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché insieme a questa troverete tante altre offerte che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, se volete vedere recensioni come questa tutti i giorni, mi raccomando, iscrivetevi al canale. per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player grazie